Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo chi ha partecipato alla qualifica del gioco del club della scommessa numero 9 e cos'hanno pronosticato. Vi ricordo che si partecipa gratuitamente e come ogni mercoledì si deve pronosticare con un commento una partita tra i campionati principali di Serie A, come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia Serie A e Serie B, come da regolamento, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 1 a lunedì 4 marzo. Ma adesso andiamo a vedere chi ha deciso di partecipare e cosa hanno pronosticato. Io intanto ho preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it Il primo partecipante è Cosimo Di Viccaro, che ha pronosticato il Napoli-Juventus X o gol a 1,63. Poi abbiamo Giuseppe Fascilla, Milan-Sassuolo, 1 over 1,5 a 1,70. Luigi Caffagna, Mongele Gabac-Bayern-Monaco, gol a 1,60. Nicola Di Stasso, Genova-Frosinone, 1 a 1,65. Ruggero Marzocca, Tottenham-Arsenal, 1 a 2,05. Giuseppe Di Benedetto, Uesca-Siviglia, X2 over 1,5 a 1,51. Solo per 79, Strade Reims-Amiens, 1 a 1,80. Vito Antonio Rizzi, Bagliano-Vercuse e Friburgo, 1 over 1,5 a 1,55. Gianni Carbone, Burnemuth, Manchester City, 1 over 2,5 a 1,55. No. 2 e over 2,5 a 1,55. Andiamo avanti. Poi abbiamo Angelo Di Corato, Cagliari-Inter, 2 a 1,77. Johnny Junior, Lazio-Roma, gol a 1,53. Vincenzo Colucci, Atalanta-Fiorentina, gol a 1,57. Cosimo Colucci, Villareale-Alaves, 1 a 1,65. Alessandro Crudo, Cain-Paris Saint-Germain, segna a casa, a 1,75. Andrea Campese, Olympique Lyon, Toulouse, 1 over 1,5 a 1,45. Giuseppe Liberti, Augsburg-Borussia Dortmund, 2 a 1,65. Johnny Prats, Sparsa-Modoria, 1x e gol a 2,40. Christian Fox, Palermo-Lecce, gol a 1,73. E Gianni Persi, a Brescia-Cittadella, 1 a 1,81. Poi abbiamo anche Fabio Crudele, Empoli-Parma, multigol a tutta la partita, multigol 2,4 a 1,45. E Domenico Cardone, Perugia-Serenitana, 1 a 2,10. Questa settimana a pronosticare le partite sono state 21. Io cercherò sempre di far partecipare tutti quanti, di tenere tutti quanti in gioco. Nel caso in cui aumentassimo come numero, come è successo già in precedenza, formerò due gruppi distinti. Mettiamo il caso, eventualmente la puntata prossima, numero 10, creo gruppo 1 e club numero 10, gruppo 2, come ho fatto in passato. Nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, il premio per tutti i partecipanti di questo gioco sarà un tablet 4GB di RAM. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che indovineranno la partita che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato il proprio pronostico sarà eliminato dal gioco e non parteciperà alla seconda fase del club della scommessa numero 9. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!